Musica Busti, tutori e protesi di arto personalizzati Ortopedia e sanitaria Lolato Atreviso e Montebelluna Lolato, soluzioni per star bene Bentrovati al meteo I prossimi giorni di autunnale avranno ben poco Si conferma infatti la presenza dell'alta pressione Che ci regala la cosiddetta estate settembrina Vediamo insieme il dettaglio di giovedì Sul Veneto questa giornata sarà contraddistinta Da generali condizioni di bel tempo Infatti il cielo si presenterà sereno O al massimo velato un po' ovunque Le temperature saranno stazionarie e gradevoli Minime sugli 11-19 gradi Massime comprese tra 24 e 28 gradi all'incirca Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia Anche qui tanto sole, cielo sereno o poco nuvoloso Per qualche velatura specie in corrispondenza dei rilievi Temperature minime tra 14 e 17 gradi Massime sui 26-28 gradi Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige Dove il tempo sarà parzialmente soleggiato Ma con il passaggio di nuvolosità più compatta Nel corso della giornata Temperature minime intorno ai 12-13 gradi Massime sui 27-28 all'incirca Dal Meteo per ora è tutto Grazie per l'attenzione Arrivederci Entra nel mondo l'olato Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita Centro del piede con servizi di podologia Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura Grazie alla prossima Grazie a tutti